Gossi pomini e donne, Luigi Mastroianni e Sara Affifella in crisi? Strani like su Instagram Luigi e Sara non si riescono a vedere molto spesso a causa dei vari impegni di lavoro In ogni caso, fino a pochissimo tempo fa, entrambi non facevano altro che far capire ai fan di stare a pensare all'altro Ora, le cose potrebbero essere un po' cambiate. Noi siamo certi che non ci sia alcuna crisi, eppure qualcosa di strano è stato notato Mentre la Affifella si trovava a Milano per uno shooting fotografico, per poi tornare a Roma, e unirsi alla sua cara amica Valeria Bigella, Mastroianni tornava nella sua Sicilia A far storcere il naso dei follower sempre molto attenti, è stato qualche link e di troppo che l'ex corteggiatore di uomini e donne pare abbia messo su alcune particolari fotografie Luigi Mastroianni si è infatti lasciato sfuggire qualche mi piace a delle strane citazioni, che potrebbero non promettere nulla di buono In ogni caso, sappiamo bene che spesso i link vengono messi a caso, o solo per continuare ad essere attivi sui social Il vicolo delle news, ha riportato gli screen di tutte le foto che il fidanzato di Sara, sembra aver apprezzato e approvato Una tra tutte dice. Ho bisogno di, non so, una via di fuga, un'uscita. Però non per andare ad una festa, e nemmeno in discoteca, ma in un parco, o in una spiaggia Sedermi sulla sabbia e parlare di tutto con qualcuno. A quanto pare, l'umore del giovane non sembra essere dei migliori Uomini e donne, cosa succede tra Sara e Luigi? Strani indizi social, punto E mentre appaiono questi strani segnali sui social, la copertina del prossimo numero di Uomini e Donne magazine annuncia una esclusivissima intervista di coppia alle Affifella e Mastroianni Dalla foto pubblicata da Gabriele Parpiglia pare che i due siano ancora molto felici e innamorati Aspettiamo e vediamo. Quali saranno i prossimi movimenti dei due diretti interessati? .